E' stato per anni il simbolo della retratezza e dei problemi del mezzogiorno. Ora l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria non esiste più perché ha cambiato nome divenendo A2 Autostrada del Mediterraneo, ma dell'A3 restano i problemi ma anche i cantieri e le interruzioni. Eppure relativamente da poco l'infrastruttura riammodernata era stata inaugurata, ma non mancano attualmente in tutte le province calabresi interruzioni che rendono difficile la vita dei viaggiatori. E questo è un dato incontrovertibile che si palesa ogni giorno e che ha raggiunto l'apice nel weekend pasquale. Certamente nei prossimi ponti si potrebbe assistere a una replica. Qualche giorno fa anche il Kodakons si è espresso facendo riferimento a titolo di esempio alle sei deviazioni che caratterizzano il tratto da Cosenza-Lamezia. Lo stesso Kodakons ha chiesto conto ad Anas delle condizioni in cui versa l'arteria e ha presentato un esposto alla procura di Catanzaro perché venga fatta luce su quelli che vengono definiti inaccettabili ritardi e le responsabilità per le condizioni in cui versa la A2. Immediata anche la risposta di Anas che ha precisato che i cantieri sono relativi al lavoro di pavimentazione su tratti fra le province di Cosenza e Vibo Valencia e altri lavori sono in fase di avvio per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Lavori inoltre effettuati in maniera alternata sulle singole carreggiate per consentire il flusso veicolare con il doppio senso di circolazione. La stessa Anas ha garantito che durante l'esodo estivo tutti i cantieri saranno completamente rimossi.